Comandante della compagnia dei carabinieri di Casal di Principe, poi ancora capo del Nuglio Radiomobile del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, di Cosenza, di Reggio Calabria. C'è questo e molto di più nel curriculum del colonnello Vincenzo Franzese, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Arezzo. Insomma un curriculum importante in alcune piazze come Napoli, come Cosenza, insomma arriva ad Arezzo, ha già un po' capito con che tipo di realtà avrà a che fare? Allora, l'Arezzo fino ad oggi era per me una realtà completamente sconosciuta, sto imparando a conoscerla da subito e da parte mia ci sarà tutto l'impegno per far fronte a quelle che sono le richieste del territorio. Il nostro utente è il cittadino e a lui è rivolto tutto il nostro impegno in sinergia con la Prefettura, con la Procura e le altre forze dell'ordine. Ecco, insomma un territorio che sì, è indubbiamente un territorio sereno, tranquillo, però non si fa mancare tante sfaccettature come le infiltrazioni mafiose, ci sono tante aziende orafe che insomma possono attirare tante tante situazioni. Ma diciamo che la situazione della criminalità sotto tutti i profili non è particolarmente preoccupante nella provincia di Arezzo, anche se è chiaro che c'è da lavorare ad Arezzo come in qualsiasi altra provincia, anche perché giustamente il cittadino aretino ha delle aspettative alte, perché è abituato a una qualità della vita elevata ed è giusto corrispondere a queste richieste. Lei è stato anche vice del NOE, ce l'ha appena detto a Roma, per quello che riguarda l'inquinamento ambientale e anche i reati che riguardano il traffico di rifiuti? Ma questo è un settore particolarmente delicato, dove però almeno girando nei primi giorni della provincia mi sembra di non aver riscontrato particolari problemi anche in questo settore.